C'è stato un accadimento e la questione è in mano alla magistratura. Di più il direttore generale dell'azienda ospedaliero sanitaria Francesco Cobello non dice. Ed è l'unica conferma, seppure in diretta, di una notizia che ha cominciato a circolare nella tarda mattinata, che cioè la procura di Trieste avesse acquisito gli atti relativi ad un'operazione chirurgica conclusasi tragicamente con la morte del paziente causa un presunto errore medico. In sostanza sarebbero stati invertiti i tubi dell'incanulamento che garantisce la circolazione extracorporea durante un intervento. Il fatto sarebbe avvenuto lunedì scorso in cardiochirurgia e la procura sarebbe intervenuta subito. Oggi in tribunale, assento il procuratore, nessuno dei sostituti ha confermato o smentito la notizia, né si sono sbilanciate le forze dell'ordine. In serata la missione a denti stretti di Cobello suona come la conferma di quanto accaduto.